Dunque, oggi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto l'altro giorno per gli stadi amplificatori con bipolari, per gli stadi a FET. Quindi vediamo il limite superiore di banda. E di nuovo prendiamo come primo caso il common source con resistenza sul source. Quindi il circuito equivalente l'abbiamo già fatto, evidenziamo il circuito equivalente di piccolo segnale alle alte frequenze, il source è a massa, quindi questo nodo. No, non a massa, scusate, no, abbiamo detto che c'è l'RS. Quindi questo, qui rimane un RS1, qui da G a massa c'è l'RG, qui tra gate e source c'è la CGS, tra gate e drain c'è la CGD, questo è il drain, tra drain e source c'è GMVGS e tra drain e S c'è la RO. Poi successivamente c'è RD parallelo a RL e questa qui è V. Allora, al solito vogliamo usare il metodo di Cochrane-Grabble per calcolare il limite superiore di banda, per semplicità trascuriamo RO. e vi ricordo che il limite superiore di banda, questa è la pulsazione, non la frequenza, quindi ottenuta a radianti al secondo, è uno su la resistenza vista dal CGS con l'altra capacità aperta, più la resistenza vista dalla CGD con l'altra capacità aperta. Quindi possiamo calcolare prima una resistenza vista da G ed S, il circuito è piuttosto semplice, in pratica si tratta di mettere il generatore di prova tra gate e source, così, poi qua c'è RS parallelo a RG, anzi questo è chiamato RS, ma RS è già chiamato questo, aspettate, fatemi chiamare RI come l'avevamo chiamato in realtà la lezione, questa è RI, quindi qui c'è la resistenza RI parallelo ad RG, questa è S e qui c'è RS1 che va verso massa e in aggiunta a questa c'è il generatore di corrente che mi porto a una corrente che è GmVGS. Ora in realtà GmVGS è uguale a GmVP che è la tensione del generatore di prova, questo che ho scritto VGS è anche uguale a VGS ma la chiamano VP, in questo caso VP coincide con VGS. D'accordo? Quindi il calcolo della resistenza vista è abbastanza semplice, mi devo ricordare che Ip è questa, qui c'è la massa, quindi la corrente non è la stessa, questa corrente qui però è Ip e quindi questa corrente sarà Ip meno GmVP. quindi io non devo fare altro che scrivere l'equazione alla maglia, in pratica andiamo un po' qui dovrei avere spazio, io scrivo che Vp è uguale a Ip che moltiplica Ri parallelo Rg più Ip meno GmVP che moltiplica Rs1. Quindi da qui posso ricavare la RCGS0 per definizione Vp diviso Ip, la pulicavo dall'espressione di sopra, quindi porto tutto Vp da una parte e faccio Vp su P, mi viene quindi Ri parallelo ad Rg Rg più Rs1 tutto diviso 1 più GmRs1. Ok, questo mi consente anche di vedere l'effetto di Rs1, se ci fate caso e vi ricordate è esattamente lo stesso effetto che abbiamo visto per la Rg nel C e con Rg. In pratica si vede che Rs1 agisce sia sul numeratore sia sul denominatore, però l'effetto più grande è sul denominatore, perché tipicamente il tema Gm per Rs1 è molto maggiore di 1. Quindi di fatto io mi ricordo che quando, ecco, questa magari è una piccola osservazione, me l'appunto qua, se Rs1 aumenta, la Rcgs0 diminuisce. Questo piccolo appunto mi conviene intanto. L'altra resistenza che dobbiamo calcolare è la resistenza vista da Gd, quindi tra gate e drain. E anche in questo caso siamo nel caso di resistenza Riss3 ingresso e uscita da uno stagio invertente. Ora però, a dire il vero, questo è un po' più facile a calcolare, infatti non è necessario per forza ricorrere a quella resistenza notevole. Ora se lo disegno, lo vedete benissimo anche voi. Io scrivo Rgd0, allora ho tra gate e drain la Vp, poi tra gate e massa mi viene la Ri parallele a Rg. quindi questa è la massa. Poi tra gate, questo è il gate, questo è il source, qui c'è Rs1, poi tra gate e source la tensione è la Vgs, di qua ho un Gm Vgs, e di qua in parallelo Rd parallelo Rl. Ora che la resistenza vista da questa parte, vedete qui già è molto simile alla situazione che vogliamo di solito, noi di solito che cos'è che vogliamo? Una resistenza da una parte, poi sull'uscita l'equivalente in Horton. qui ci siamo abbastanza vicini, e che cosa bisogna osservare qui? Bisogna osservare semplicemente questo, che Gm, anzi che Vgs, è uguale a Vg meno Vs. Ora vediamo, se io riuscissi a esprimere Vgs in funzione di Vg, avrei proprio quello che mi serve. Come faccio a esprimere? Beh, mi ricordo che Vs è Gm Vgs, e questa corrente per Rs1, quindi questo è Vs meno Gm Vgs per Rs1, e quindi posso ricavare Vgs in funzione di Vg. Vgs non è nient'altro che Vg diviso 1 più Gm Rs1. Quindi io posso trasformare questo circuito in un circuito più simile a quello che mi serve, perché vedete io ho questa è una Vp, qui c'è Ri parallelo a Rg, qui c'è un generatore di corrente che è questo qua, Gm diviso 1 più Gm Rs1 per Vg. Quello che c'è in serie a questo punto non mi importa più, perché il valore della tensione del source non mi serve, perché tanto ormai questa corrente è espressa in funzione di Vg, non più di Vgs, quindi io posso benissimo eliminare tutto quello che c'è in cascata, e qui ho Rd parallelo a Rl, e quindi questa è una resistenza notevole per cui posso scrivere subito il valore della resistenza vista, che è Ri parallelo a Rg, che moltiplica 1 più il coefficiente del generatore, Rs1, per la resistenza Rd parallelo a Rl, tutto più Rd parallelo a Rl. Ok? Quindi questa volta ho potuto scrivere tutto molto rapidamente, anche qui che cos'è che devo osservare? Magari è utile notare l'effetto di Rs1, vedete Rs1 compare qui. Questo vuol dire che quando aumenta Rs1, la resistenza vista cala. Comparendo solo al denominatore, quello è l'effetto. Va bene? Quindi, allora, ricapitoliamo. Questa resistenza è più grande di quell'altra, vedete, perché c'è Ri parallelo a Rg per questa roba qua. Quindi, tipicamente è un po' più grande dell'altra. Però, la cosa effettivamente, vedete che questa qui aveva questo termine a dividere, quell'altra ha Rd parallelo a Rg, e poi questo termine che è maggiore di 1 a moltiplicare. Quindi viene tipicamente più grande. Allora, però l'effetto dell'Rs1 è uguale sia qui, sia qui. Cioè, alzando Rs1 le resistenze viste calano. Se calano le resistenze viste, Omega H aumenta. Quindi, questa cosa qui magari l'ha noto. Quindi, effetto come effetto di Rs1. Allora, se, in modo schematico, Rs1 aumenta, Rgs0 cala, Rg di 0 cala, e quindi, di conseguenza, Omega H aumenta. Va bene? Noi sappiamo, per altre vie, altri effetti di Rs1. Li possiamo, vi ricordate, abbiamo già visto insieme che se aumenta Rs1, l'amplificazione scende, la resistenza di ingresso sale, la resistenza di uscita sale. Queste le abbiamo già trovate. Ora abbiamo visto anche l'effetto sul limite superiore di banda. Come al solito, beh, immagino che l'avete già notato, c'è questo compromesso qua, no? Se Omega H sale, a V scende. Ok, allora, per completare un po' questo ragionamento, guardiamo anche l'altra configurazione, lo stadio a Common Drain. In questo caso abbiamo il drain a comune, quindi il drain per il circuito di piccola segnale va a massa, mentre invece l'uscita la preleviamo sul source. Quindi abbiamo che tra gate e massa c'è la Rg, il drain è a massa, qui c'è il source, questo è GmVgs, in parallelo c'è la Rho, e ancora in parallelo c'è Rs parallelo Rl. Cosa ho fatto qui però? Sì, non ho messo le capacità. Abbiamo una CGS tra gate e source e poi come sapete abbiamo anche la CGD. No, sbagliato. CGS e poi abbiamo la CGD tra gate e drain. Quindi, vediamo prima la resistenza vista da CGS, devo mettere il generatore di prova tra gate e source. Quindi cosa ho? Tra gate e drain e massa mi viene il parallelo di Rg e Rg come prima. Da questa parte. La capacità è aperta, il generatore di tensione indipendente spento, qui ho GmVgs che notate è uguale a GmVP. Che Vgs è uguale a Vp in questo caso. E poi qui, vabbè, facciamo che come prima trascuro la Rho, tanto non mi cambia niente nei calcoli, qui mi viene soltanto Rs parallelo a Rl. Allora, se io metto questa corrente Ip, qui si chiama Ip, qui dovrà essere Ip meno GmVP. Quindi, se scrivo l'equazione alla maglia esterna, mi viene una cosa di questo tipo. Mi viene Vp uguale a Ip che moltiplica Ri parallelo a Rg più la corrente Ip meno GmVP che moltiplica Rs parallelo a Rl. A questo punto posso calcolare la resistenza vista. Vp su Ip uguale Ri parallelo a Rg più Rs parallelo a Rl tutto diviso 1 più Gm Rs parallelo a Rl. di fatto viene una cosa abbastanza bassa e questo termine rende Rgs0 bassa. Di nuovo, Gm per resistenza di carico o insomma qualcosa di simile tipicamente può valere qualche decina, quindi l'effetto si vede. Ok. C'è l'altra capacità, quindi l'altra resistenza vista. Questa è più facile perché ovviamente qui c'è qualcosa che non va in questo ho detto bene, tra gate e drain, ma quest'altra è molto molto semplice in realtà, vedete, perché in pratica la resistenza vista da Cgd quando l'altra capacità è aperta è semplicemente Ri parallelo a Rg e basta. Quindi non c'è molto da non c'è molto da aggiungere quindi scriviamolo subito Rgd0 è semplicemente Ri parallelo Rg quindi questo è tutto confrontiamola un attimo con la resistenza vista nel caso di nel caso di prima questa qui era maggiore di Ri parallelo a Rg perché c'era questo termine maggiore di uno più quest'altro quindi in questo caso sicuramente questo pezzo di resistenza nel caso drain comune è minore che nel caso source comune quell'altro più o meno è simile se vi ricordate questa è un'espressione se lo confrontate con questa viene abbastanza simile come struttura però il risultato finale è che una resistenza è nettamente più bassa in questo caso e quindi la omega H sarà più alta ok quindi se andiamo a fare omega H scrivo semplicemente così più alta che nel caso CS con RS perché Rgd è minore in questo caso così ce lo ricordiamo quindi questo è il discorso che più o meno completa il ragionamento che volevamo fare e non possiamo approfittare per fare quello schema semplificato che abbiamo visto spesso no? abbiamo qui possibilità di confrontare diversi schemi CS CS con RS e CD e di confrontarli rispetto all'omega H al limite supervivante magari per ricordarci di questo trade off di progettazione indichiamo anche Av allora Av com'era? era minore in quei casi e maggiore nel caso Common Drain e avevamo detto era alto medio e basso in questi schemi in questo caso qui abbiamo una situazione opposta perché il valore minimo ce l'abbiamo nel caso di Common Source quando tutta la resistenza del Source è cortocircuitata se mettiamo un po' di RS abbiamo visto prima le resistenze diminuiscono e quindi aumenta l'omega H diciamo medio e ancora di più se facciamo una stadio Common Drain l'RGD viene proprio minima rispetto al caso precedente per cui possiamo avere un'omega H ancora più alta e come al solito rimane questa considerazione le espressioni degli stadi a FET e degli stadi bipolare sono abbastanza simili se ci fate caso praticamente sono molto insomma l'unica differenza è che appunto nello stadio a FET non c'è una corrente di GATE quindi non c'è l'equivalente dell'HIE che invece è presente ovviamente negli stadi al bipolare poi le espressioni a parte questo sono esattamente identiche quindi più o meno uno riesce a fare un tipo di amplificatore abbastanza simile in un caso o nell'altro una differenza che c'è tra bipolari e FET è questa cosa il GM non è lo stesso vi ricordate il termine GM è sia nel circuito equivalente dei FET sia nel circuito equivalente dei bipolari è quello che si chiama transconduttanza cioè mi dice transconduttanza differenziale ovviamente mi dice quanto cambia la corrente d'uscita se cambia la tensione d'ingresso rispetto a una variazione di tensione d'ingresso quindi è definita per esempio nel caso dei FET come la derivata parziale della corrente di drain rispetto a VGS e nel caso del bipolare è la derivata parziale della corrente di collettore rispetto a VBE quindi il tipo di definizione è lo stesso vi volevo far notare che però le espressioni sono abbastanza diverse perché usando il modello di Aversemol per il bipolare noi avevamo trovato che veniva praticamente IC su VT nel caso del bipolare nel caso del FET veniva due volte D diviso VGS meno VT e questo è l'esempio del MOSFET in particolare ok qual è la differenza principale che a parità di corrente questa aspettate questa chiamava VTH perché non è la stessa VT di prima questa VT è la tensione termica KT diviso Q quindi questa è 26 millivolt a temperatura ambiente questa qui dipende però in generale può essere una cosa di ordine un volt no? mezzo volt anche se fosse un volt vedete viene fuori se fosse un volt che il GM di un FET è 20 volte più piccolo del GM di un bipolare a parità di corrente ok quindi a parità di corrente corrente d'uscita corrente del dispositivo GM di un FET è tipicamente molto minore del GM di un bipolare nell'esempio che vi ho fatto ora di un volt viene 20 volte più piccolo se invece di un volt il termine VGS meno VTH fosse mezzo volt sarebbe 10 volte più piccolo un po' più piccolo è non è che difficile fare un VGS meno VT dell'ordine di 50 100 millivolt non è una cosa particolarmente realistica ok quindi uno deve tenere conto che le formule sono uguali però i GM che uno può ottenere con un bipolare sono molto più alti di quelli che si possono ottenere con un FET ok ci let me share